E' stata presentata ieri a Buduzo la prima edizione del trofeo Angelo Uleri, riservato alle formazioni della categoria allievi. Alla manifestazione parteciperanno le formazioni del Buduzo, dell'Ozzierese, del Cagliari e dell'Inter. Vogliamo così ricordare Angelo Uleri, un nostro grande tifoso, che oggi purtroppo ci guarda da lassù, ma che non ci farà certo mancare il suo sostegno, hanno detto così gli organizzatori nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo. Le semifinali vedranno contrapposte Buduzo e Inter, Ozzierese e Cagliari. La finale invece in programma domani, domenica 28 novembre, alle ore 10.